Martedì grandi guide all'Ippodromo del Savio, con alcuni dei migliori driver del panorama nazionale ad impreziosire una serata ricca di proposte tecniche con le canoniche sette corse in programma a partire dalle ore 21. Soggetti di 5-6 anni si daranno battaglia nella prova a maggiore dotazione, un miglio che ha in Zoaras Club una delle migliori del referenziato lotto al via, con la giumenta presentata da Alessandro Goccedoro ancora alla ricerca della forma migliore, ma comunque in grado di tenere testa agli aggueriti Viscoget con Roberto Vecchione e Zwicky Fox affidato alle abili mani di Vincenzo Piscuoglio dall'Annunziata. Una punta di internazionalità costa e distingue il prologo di serata con i cadetti in pista guidati dai gentleman. Incuriosisce la presenza dell'austriaco di casa Ruth Sydney, reduce da alcuni piazzamenti tra Vienna e Baden e candidato ad uno dei gradini del podio. Per la vittoria sembrano migliori le chance di Atos dei Veltri con Elan Villani e Abu Dhabi Gar con Matteo Zaccherini.